Questi sono dati europei aggiornati alle ultime dati disponibili, quindi c'è un ritardo di circa sei mesi rispetto alla situazione attuale. Sono le spese in lobby delle prime cinque aziende di cui abbiamo parlato. Il totale è circa 21 milioni di euro. La cosa assolutamente ridicola è che a Bruxelles ci sono circa 750 parlamentari in generale e ci sono oltre 4.500 lobbisti registrati, quindi 5 o 6 per ogni parlamentare. Su questi dati pesano ancora le spese per quella che è stata la legge sul copyright, che aumentano in modo significativo i dati di Google e di Facebook. Prima di quella legge Microsoft era abbondantemente davanti a tutti gli altri. Per farvi vedere, questo è il network di consulenti che ci sono a Bruxelles. Come vedete addirittura Google e Microsoft hanno veramente una galassia di aziende che utilizzano. Questo chiaramente ha una serie di conseguenze. Queste sono gli interventi sui think tank. Quelli che vedete a sinistra sono dei gruppi di influenza sui quali queste aziende cercano di fare pressione. Sono membri di tutti questi gruppi. Come vedete, quelle due più attive sono Google e Microsoft. Direi che per la parte che interessa a noi, la più attiva è sicuramente Microsoft. Chiaramente con il Covid c'è stato un aumento delle attività relative a quella che è la didattica a distanza da parte di diverse aziende. Solo per farvi capire quello che succede, quando c'è stata la legge sulla privacy, su 41 incontri che sono stati fatti con la Commissione Europea, 36 erano la presenza dei lobbisti e 5 solo la presenza della cosiddetta società civile. quindi siamo veramente... la situazione, diciamo questa situazione di disparità a livello economico crea chiaramente una situazione ancora più evidente di disparità per quello che riguarda l'influenza politica. Poi chiaramente quando io faccio il mio intervento, che sarà l'ultimo, possiamo ritornare su questo argomento. Adesso lascio la parola al successivo speaker. Grazie. Siamo in attesa di Marco Bentivogli, speriamo che stia bene, che sia tutto a posto, perché sappiamo che c'è qualche problemino. Faccio solo un'annotazione sulle aziende. Allora, io conosco molto bene Apple perché ho lavorato come consulente per Apple per quasi 20 anni, consulente di comunicazione. Quello che posso dire è che finché Steve Jobs è stato a capo di Apple, Apple non è entrata, per esempio, nel programma Prism negli Stati Uniti, perché Steve Jobs voleva che i dati degli utenti Apple fossero protetti. lo ha sempre detto, lo ha sempre scritto, anche in polemica piuttosto forte con il governo americano. Mentre da quando Steve Jobs non c'è più, Apple ha cambiato completamente politica, è entrata nel programma Prism. Chiaramente ha una posizione che è molto più legata all'hardware che al software, che da una parte dà un certo tipo di potenza, definiamola di fuoco, ma che non è pervasiva, ma a mio modo di vedere, come quella delle aziende che spacciano servizi cloud per prendere i dati degli utenti e trasferirli dove gli pare, Stati Uniti, ma secondo me anche da altre parti.